L'attaccante dell'Inter, Chetabalde, parla prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Sì, ogni partita è un mondo, ogni partita è un mondo e ogni giocatore si deve mettere a disposizione per fare quello che serve alla squadra e quello che ti chiede l'allenatore. Domani però è una partita di uscire a testa alta, di andare a testa alta e di provare a vincerla a tutti i modi. Io penso che all'andata non è stata una partita semplice, soprattutto giocare lì in casa del Barcellona non è mai semplice. Domani dobbiamo uscire fiduciosi, fare una partita di tanta personalità e basta, poi si vedrà domani. Ma consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza e penso che così possiamo fare male. Inter-Barcellona è già da record. La partita di Champions League tra i Nerazzurri e Blaugrana, che si giocherà a San Siro, ha fatto registrare il record di incassi per una società italiana. I biglietti venduti sono circa 78 mila, che porteranno nelle casse della società meneghina 5,8 milioni di euro. La cifra più alta, toccata da una squadra italiana tra partite di campionato e coppe europee. 300 mila euro in più rispetto al precedente primato, fatto registrare dalla Roma l'anno scorso, in occasione della semifinale di Champions, tra i giallorossi e il Liverpool. Il magazine francese France Football è sicuro. Al-Saint Wenger sarà il nuovo allenatore del Milan. Recentemente l'ex tecnico dell'Arsenal si era sbilanciato sul proprio futuro dicendo, sarò da qualche parte all'inizio del prossimo anno, ma non so ancora dove. France Football non ha dubbi. Wenger è in pole position per stituire Gennaro Gattuso. La rivista scrive, La situazione del Milan non è drammatica, ma è ben lontana dalle aspettative dei nuovi azionisti. Questo è il motivo che avrebbe spinto Paul e Gordon Singer ad avviare i primi contatti con l'allenatore francese, che in rosso-nero potrebbe rivestire anche un ruolo manageriale insieme a Leonardo in vista della prossima stagione. Brutte notizie per Filippo Magnini Il nuotatore si è visto infliggere quattro anni di squalifica per doping. La decisione è stata presa dal Tribunale Nazionale Anti-Doping di Nato Italia. L'accusa avrebbe chiesto per l'ex Campione Azzurro una squalifica di otto anni per aver abusato di sostanze dopanti che avrebbero migliorato le prestazioni di gara del pesarese. Magnini ha subito espresso il suo disappunto commentando, Una cosa mi fa ridere, anzi mi fa rabbia. La procura dice di pensare che noi abbiamo pensato di fare qualcosa, anche se poi non l'abbiamo mai fatto. È un processo alle intenzioni e non mi sarei mai immaginato una cosa del genere.